ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi siamo qui a parlare di king chigillette allora come potete vedere qua ci sono quasi tutti i prodotti king chigillette che potete trovare a supermercato o su internet allora voglio parlare di ognuno di esso allora abbiamo il detergente magma già provati questi qua io già l'ho provati infatti guardate questo qua è finito questo è a metà questo è a metà e questo già con un altro l'ho provato questa è la pochettina king chigillette che ho comprato che è molto carina che ci sono dentro il pettine il pettine questa e un altro detergente magma allora parliamo di questi prodotti questi sono prodotti tutti 15-15 gillette allora abbiamo detergente barba rispetto alla interesi sto qua non ha una particolarità è 350mg perciò diciamo che è un po è molto quello che io è barba e viso ma adesso stanno facendo barba a viso e capelli così uno lo usa anche come shampoo per avere tutto quanto lo stesso odore profumazione buona questo qua è buono nella barba la zerga molto bene però non andate dove non c'è la barba perché vi può fare irritazione quello per capelli non lo so penso che sia ancora più delicato di questo qua comunque questo qua per la barba è buono io vi consiglio di comprarlo tanto se andate da questa bone quando ci sono gli offerti posso seguire 20 e su internet l'ho trovata a volte a prezzi stracciati perciò la king io la sto utilizzando molto perché i suoi prezzi si sono letteralmente abbassati ma di tanto prima era un po meno di prolaso ora è molto meno di prolaso molto meno prolaso comunque ha una di in più però questo qua non devo dire che non è male per alcune cose ha una di in più per altre questo è buono allora questo è il pasta modificato da barba con burro di cacao guardate com'è formazione ottima allora voi ne prendete vi lavate la barba con detergente barba e poi gli mettete questo qua nella barba o nel pizzetto io quando gli faccio il pizzetto utilizzo questa qua devo dire che è molto buona perché nutre molto la barba nutriendo molto la barba gli da anche con il pettine di mano in quella maniera non è molto diciamo il gel però gli da una certa plasticità al come volete fare la barba un pochettino di rimane in quella maniera perciò potrebbe essere un'ottima soluzione se vi fate il pizzetto lungo o il pizzetto normale per la barba forse ce ne vuole un po' troppo di questo qua comunque fin quando è media e bassa questo qua è buono cioè quando è poca la barba ed è media o il pizzetto è buona il basso da barba veramente buono ragazzi allora fate un'ottima impressione formazione è uguale a questa qua del detergente ma si sente parecchio poi infine allora se invece avete la barba lunga proprio la barba lunga l'unica soluzione è l'orevo a barba perché di questo del del balsamo delicato per barba ce ne vuole troppo mentre con questo è riuscito con qualche con qualche un bel po' di goccettina poi ci sono vettorie di tanti tipi devo dire che è abbastanza buono però unge un pochettino di più come formazione siamo uguale a questa qua ed è abbastanza buono diciamo come olio da barba uno decente decente basta metterlo nel giusto e vi fate un'ottima idratazione infine la crema idratante per barba e viso questa è tipo questa però ha una particolare questa qua è buona sia nelle barbe corte sia nelle barbe lunghe per dare una quando vi brucia proprio la pelle tipo che vi iniziate aggrattate vi mettete questa qua e non vi aggrattate è la stessa cosa fate con questo è la stessa cosa con questo quando inizia a fare il prodotto il prodotto la barba deve utilizzare per forza uno di questi prodotti di questi tre prodotti se no è una tortura io l'ho voluto ricomprare forse tanto per ma con questo qua l'avevo risolto perché a me piace la profumazione della Gigi Gillette questa qua è nata secondo me perché non è 100mg come questo qua 100mg perché non ha profumazione non avendo profumazione uno se la mette e praticamente resta senza profumo e a me sta cosa non piace tanto è un idratante normale invece di usare la crema quella diciamo che utilizziamo per il viso le nostre madri questa qua è un po' più fatta per la barba con altre cose di argan eccetera eccetera comunque è buona anche questa però non ha profumazione perciò quello che vi consiglio è questo se non vi piace la profumazione Gigi Gillette andate sulla crema alla barba se vi piace la profumazione Gigi Gillette andate su questo qua soft beat ball allora io ne ho comprati parecchi di questi ora me ne sono arrivate tante perché lo trovo bellissimo prima usavo solo l'olio in tutti i tipi di barba ma mi sono reso conto che questo è molto meglio nel pizzetto cioè io ora mi sto facendo nel pizzetto più lungo però ora mi raccoccio di nuovo questo qua è micidiale nel senso che ho trovato la soluzione al problema perché questo qua ungeva troppo e poi mi arrivava in bocca e faceva male cioè non mi piaceva questa situazione perché usandolo solo qua è diverso mentre con questo qua faccio un bel profumo faccio un bel profumo e inoltre mi tiene la barba fissa e la nutre nel frattempo questo qua se ve lo volete comprare costa 16 euro di solito su internet su grandi stronti su amazon io questi li ho presi quasi tutti su amazon prende qualcosa da acqua e sapona acqua e sapona 6 euro e 20 euro e su amazon 7 euro così perciò ci sono sempre sconti sulla ginge ci sono sempre sconti io ve la consiglio attenzione ve la consiglio veramente perché comunque è una buona marca si trova al supermercato si trova dove volete ed è fatta bene anche la profumazione è decente e i prodotti sono tutti di tanti tipi ma sono quasi tutti validi ed è fatta per consumarlo abbastanza nel senso è fatta per che non ti fregano ma i prezzi sono onesti e poi siccome è in larga scala perci ci sono sempre offerte già uno di questo 6 euro e 20 350 mg questo 6 euro e 20 100 mg sono cose che utilizzate sempre se volete la barba perché avere la barba avere il pizzetto non è semplice nel senso che o ve lo fate corto ma appena inizia a crescere vi inizia a dare problemi nel senso che vi inizia a fare buzza o a fare la cosiddetta forforina che non è buona perciò bisogna lavarla bisogna mantenerla oppure o rasate tutto oppure bisogna curarla la barba bisogna curarla è inutile che facciamo che parliamo eccetera eccetera la barba va curata se no è meglio che uno non se ne fa si rate si compra le cose per radersi e basta io faccio sia mi rado sia e sia ho la barba col pizzetto e così trovo una me di mezzo perché avere la barba lunga è una responsabilità grande nel senso che bisogna curarla veramente bene quello che vi posso dire su questi sono i miei consigli voi provate a farmi crescere la barba ve l'ho detto più o meno come prima questo poi utilizzate questo e poi utilizzate questo questa è la direzione per avere la barba lunga giusta e niente ragazzi questo è tutto per questo video siete maccarane io parlo di tantissime altre cose come video giochi softair armi di tutto parlo veramente tantissime cose io parlo singolarmente di ognuno di questi prodotti andatevi a vedere anche quei video se siete interessati ci vediamo al prossimo video e iscrivetevi al canale ciao